Siamo attesi da delle partite importanti, le quali all'andata purtroppo ci hanno dato tanti dispiaceri, però ovviamente come facciamo sempre ne pensiamo una alla volta, anche perché quella che arriva è una squadra forte, che conosciamo bene e che sappiamo quelle che sono le potenzialità. Noi abbiamo voglia di continuare il nostro percorso, provando a dare continuità ai risultati positivi che stiamo avendo, sapendo che domani lo scoglio sarà impegnativo, però credo che abbiamo tutte le potenzialità per poter fare una grande partita e per poter mettere in difficoltà avversari di primissimo ordine come sono quelli che arrivano domani. Non siamo stati capaci di farlo fino ad ora contro le squadre sulla carta costruite per un obiettivo ben dichiarato e ovviamente non vediamo l'ora di poterci riuscire, sapendo che sarà difficile, però sapendo anche, come ho appena detto, che le potenzialità per poter fare una grande partita le abbiamo e ci siamo preparati bene e abbiamo tutto per poter fare una grande partita contro un avversario che sicuramente ha delle ottime qualità e lo sta dimostrando. Sicuramente è una partita tra due squadre brave e che avranno voglia di primeggiare. Loro, con il cambio che hanno avuto poche settimane fa, hanno cambiato modalità di gioco, hanno cambiato anche il sistema, ma hanno cambiato proprio il modo di giocare. Prima, come ci ricordiamo all'andata, erano molto bravi ad andare ad attaccare questa profondità con due attaccanti che hanno ottime qualità e venivano subito ricercati. Adesso a questa ricerca di attaccanti che rimangono bravi a provare ad andare in profondità e che continuano a farlo, hanno abbinato anche tantissima qualità in mezzo al campo, con tanti giocatori a disposizione l'uno e l'altro per fare possesso e per trovare i varchi giusti sia internamente che esternamente. Quindi, ripeto, che affrontiamo un avversario che sta dimostrando di poter essere protagonista di questo campionato. Però noi anche, come detto, abbiamo dei giocatori nuovi. Ovviamente, quando ci sono dei ragazzi nuovi, c'è bisogno di un pochino per riuscire ad amalgamare, per riuscire a capire quali sono le caratteristiche che meglio si sposano tra compagni, quali sono le qualità che possono a noi, Bari, riuscire a far sì che possiamo continuare a fare quanto di buono abbiamo fatto. Quindi sarà sicuramente una sfida impegnativa, però vogliamo provare a regalare una gioia ai nostri tifosi visto che ancora purtroppo non ci siamo riusciti contro avversari di questo livello. Oikonomu per noi è un ragazzo che ha grandi qualità e sicuramente sarà importante nel nostro percorso. Ho a disposizione tanti giocatori bravi, come abbiamo detto ce ne sono diversi nuovi e ogni volta provo prima a capire quali possono essere gli interpreti giusti per riuscire a fare la partita migliore. Come ci siamo detti più di una volta, poi a posteriori siamo tutti un po' più bravi a capire quelle che potevano essere le soluzioni migliori, però io sono contento di avere a disposizione tanti ragazzi bravi e lavoriamo quasi tutte le settimane, tra virgolette, mischiando le carte perché non sono carte da mischiare, è un gruppo da riuscire a far migliorare insieme e far sì che il fine settimana poi gli undici che vengono scelti per scendere in campo possano essere pronti per fare la partita che viene richiesta. Quindi non abbiamo una modalità, un modulo predefinito, ma abbiamo un modo di giocare che è molto chiaro, che ovviamente ha bisogno di tempo per i nuovi per poter far sì che si integrino nella maniera migliore e ci auguriamo che già da domani possiamo avere dei benefici da questi ragazzi che sono arrivati. Io l'ho detto quando ancora non si era visto, che per me lo confermo ora, è un ragazzo che ha delle potenzialità enormi, è stato in grado anche di dimostrarne alcune e sicuramente sarà in grado di continuare a farlo e queste sue potenzialità gli permettono di poter occupare varie zone di campo, proprio questa è una delle sue grandi qualità che ha e che nel tempo saprà sicuramente sviluppare. Ovviamente parliamo di un ragazzo del 95 che, ripeto, dotato tantissimo a livello fisico, tecnico, con grande applicazione e voglia di voler diventare un giocatore forte, ma pur sempre un ragazzo tra virgolette che deve ancora esplodere e poter maturare, quindi su di lui in questo mese purtroppo è per fortuna perché noi siamo contentissimi che ci siano accesi i riflettori su un giocatore nostro, giovane e potenzialmente un grande patrimonio per la società, sicuramente questo mese non lo aiuta per quanto ragazzo può essere bravo e disponibile ad avere la serenità giusta per fare quello che ha sempre fatto, però sono convinto che le qualità sue, così come quelle di tutti i suoi compagni, sono importanti e saranno utili alla causa del Bari.